Buonasera a tutti. Siamo sempre figli di Dio Minore anche per il Leggio, noi non ce l'abbiamo mai. La piazza è davvero magica, ti dà quella adrenalina che ti carica, che cancella tutte le tossine di questa campagna elettorale. Le tossine di questa campagna elettorale, lo voglio ripetere, mi sento stanco per due motivi. Uno perché la mattina lavoro, due perché la sera non dormiamo, non mi stanca la politica, la farei tutti i giorni. Oggi è l'ultimo comizio propriamente nostro, perché poi venerdì si chiuderà questa campagna elettorale. E proprio per questo oggi vogliamo chiudere in bellezza. E per chiudere in bellezza è doveroso fare delle dediche, perché troppo spesso la storia la dimentichiamo. Se oggi siamo qui, e soprattutto se oggi questa piazza pulsa di passione, credo che davvero qualche dedica vada fatta. Permettetemi di iniziare da Ceccia Perricelli. Oggi probabilmente sarebbe in mezzo a noi a trasmetterci la sua grande passione. E poi ancora Tottino Rizzuto, altro compagno di Giocece e di tutti noi. Noi lo ricordiamo sempre con piacere. Lasciatemi poi ricordare il professore Fausto. Che tanto ha dato a questo paese. Lasciatemi ancora dedicare questa serata all'autopato Bruno. Che per la prima volta, da quando è mancato, sta assistendo dalla sua a questa campagna elettorale. Questi nostri cari compaesani, e la storia, la loro storia che poi è la nostra storia, li dobbiamo sempre portare nel cuore. Perché tra scontri, a Cese e non, hanno dato tanto. E soprattutto hanno lasciato un grande esempio. Di rispetto. Mi piace pensarli oggi tutti insieme. Attivare chi per l'uno, chi per l'altro gruppo. Magari anche ad urlarsi contro. Ma sempre con grande rispetto. Vorrei poi ricordare chi la cultura intesa come istruzione, esperienze, nel nostro paese l'ha fatta per anni. Il professore Merante e il professore Giulio. L'Auro era una società diversa, dove si coniugava l'impegno e la passione, ma dove non mancava il rispetto. E ne vorrei ricordare ancora tanti altri stasera, che hanno fatto il possibile per cercare di portare avanti questa comunità, per dare lustro a questa comunità. A loro bisognerebbe ogni tanto pensare e ripartire, anzi, rinascere. Allora, come oggi, sapete cos'è la cultura? Scrivetela come volete, con la C o con la K. È quella che proviene dal cuore. La cultura non è un titolo di studio. John Dewey, un grande pedagogista americano, diceva che la migliore istruzione è la vita. Io ne sono convinto. Scarpe grosse e cervello fino, dice un vecchio raggio popolare. E questa è la prima regola, è un primo insegnamento che dobbiamo dare ai nostri figli. I bambini devono capire che quella di chi vive è la migliore cultura. La maestra è esperienza di vita. Ce lo diceva Seneca. Continuiamo ad impararle queste cose. Per questo, contrariamente a quello che qualcuno va a dire nelle piazze, provenendo io stesso da una famiglia con le scarpe grosse e le mani callose, apprezzo tutti i contributi. Quelli di chi ha un livello istruttivo alto, ma soprattutto quelli di chi ha imparato dalla vita. Ecco cos'è la cultura. Apprezzare l'altro, ascoltarlo e sostenerlo, non solo durante le lezioni. E non importa se in cultura si scrive con la C o con la CAP. Voglio, come avete avuto modo già di capire, continuare la nostra campagna elettorale mantenendo un profilo che sia il più rispettoso possibile degli altri candidati. anche di quelli che ormai come strategia utilizzano l'offesa e la calunnia. A proposito, visto che stasera siamo in tanti, vi voglio fare subito una domanda che non farei ai miei alunni, ma che ai miei alunni cerco di far capire tutti i giorni. Avete forse bisogno di un sindaco la cui strategia principale è l'offesa personale? Non abbiamo bisogno di un sindaco che vi dia risposte. Io non ho dubbi. Oggi la nostra comunità ha bisogno di un'amministrazione sensibile, attenta alle esigenze di un territorio problematico, di un'amministrazione garante delle esigenze dei cittadini, a partire da quelli più deboli. Non a caso, nel nostro programma, ecco quello che vi veniamo a raccontare nelle piazze, il programma. Non ci interessano gli altrui candidati. Abbiamo pensato, per esempio, all'equità fiscale. Modulare, cioè, le diverse alipote, le tasse, sulla base del reddito e del numero, del numero familiare. I più bisognosi, ecco, li abbiamo considerati. Proprio per i più bisognosi abbiamo pensato ad un fondo di solidarietà da cui attingere anche poche centinaia di euro per supportare quando ne hanno bisogno. ma non ci siamo dimenticati nemmeno dei disoccupati. Quando qualcuno si è preso la briga anche di andare a contare i punti del programma, sono arrivati a 70. Prima ci dicevano che non avevamo un programma. Adesso ci dicono che il programma è corposo. Io dico che il programma è funzionale alle esigenze di questo territorio perché è realizzabile semplicemente. ecco quello che è conto. Dicevano, abbiamo pensato anche ai disoccupati. Abbiamo, per esempio, intenzione di realizzare uno sportello informativo da cui poter attingere tutte quelle informazioni, le notizie, riguardanti appunto le possibilità occupazionali. Già è un mondo del lavoro, voi sapete, è difficile, veramente per certi versi è impenetrabile. Se noi riuscissimo a creare le condizioni per informare, almeno per informare, io credo che già la domanda e la richiesta potrebbero avere un normale punto d'incontro e non credo che questo sia straordinario. Abbiamo pensato pure di promuovere dei bussero lavorativi e di creare un incubatore per le piccole imprese, per sostenere l'iniziativa privata e per dare slancio alle economie del nostro territorio. Se siamo qui è proprio per questo. Se oggi non avessimo problemi, forse non ci sarebbero quattro viste e forse non ci sarebbero nemmeno tante staccature. Vogliamo per esempio parlare di divisioni e di pacificazione? Quattro gruppi, e ce lo dite pure voi quando veniamo a trovarvi nelle case, sono davvero tanti. Ma in una democrazia è legittimo che ciò accade. Ognuno legittimamente può ambire ad essere l'amministrazione del domani e il sindaco del domani. C'è per esempio in maniera direi simpatica, tra virgolette, poi ne parliamo dopo, metti in evidenza la staccatura del PD. Vero. Noi non ci nascondiamo dietro un dito. Ma a me pare, sempre che sono stato attento, che ci sono pure due gruppi che contano assessori uscenti, ex-assessori e addirittura componenti della minoranza. Cosa significa questo? Semplicemente che negli ultimi anni ci sono stati molti elementi di conflittualità politica e personale, di cui certo non sono stato io il protagonista. Io arrivo oggi. Questi problemi ce li portiamo dal passato. E non dimentichiamoci poi che il candidato a sindaco per la lista numero due è l'ex collaboratore del sindaco. Insomma, come vedete, le divisioni non sono emerse oggi che dobbiamo eleggere i nostri rappresentanti, ma sono divisioni vecchie. Perché, per esempio, io sto facendo delle fotografie della situazione politica, non sto esprimendo opinioni. Perché, per esempio, già nel gruppo di minoranza eletto nel 2009, dovete sapere che fin da subito un consigliere si mise da parte e ci fu la frattura della minoranza. Senza poi dimenticare le varie dimissioni che si sono succedute in questi anni. Prima di deleghi importanti, poi di assessori importanti, poi addirittura la necessità di avere un collaboratore del sindaco. E dice una cosa vera, Michele, perché io cerco sempre di essere obiettivo che durante i suoi 14 mesi di collaboratore non ha percepito alcune indennità, ma aveva un ruolo stabilito da delibera, un ruolo che gli doveva far cambiare marcia all'amministrazione. E poi anche le dimissioni del collaboratore del sindaco, quindi vedete, una serie di dimissioni hanno caratterizzato questi anni. Questo, dicevo, è una fotografia perfetta di quello che è accaduto in questi anni e addirittura se qualcuno di voi avesse partecipato agli ultimi consigli comunali avrebbe potuto vedere le difficoltà della nostra maggioranza. Io dicevo l'altra sera, una maggioranza che è stata eletta con il massimo storico di differenza, 270 voti, eppure siamo arrivati all'approvazione di due documenti fondamentali come un piano strutturale e come un bilancio con numeri risicati, non certamente per colpa mia. Le liste, appunto, sono un frutto delle tante divisioni che si sono sosseguiti in questi anni. Io credo che queste divisioni dovevano essere sanate prima, ma comunque queste divisioni io credo che dovranno essere sanate anche dopo, perché per avere condizioni sociali ed economiche migliori ci vuole l'impegno di tutti. Non servirà solo l'amministrazione che vincerà, ma servirà la collaborazione di tutti. Per questo queste divisioni dovranno terminare. Noi vogliamo che queste divisioni terminino. Anche questa è cultura. di vittorio di